Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come ogni domenica, anche oggi, si gioca Life is Strange. Sigla, iniziamo! Riprende da un po' prima e rispetta dove l'abbiamo lasciato. Riprende da un po' prima. Allora, qui dovevamo uscire dalla scuola. Ok, eravamo arrivati qua. Dobbiamo o denunciare Nathan o nascondere la verità. Allora, molti mi hanno detto di denunciare Nathan, anche su Instagram. Però, ho letto un commento di Asia che mi diceva che se io dico la verità e quindi denuncio Nathan, magari il presidente non mi crede e mi crede una psicopatica. Perché c'è comunque un ragazzino che punta una pistola contro una ragazza e io che mando indietro il tempo per salvarla, forse non mi crederà. Quindi, nascondiamo la verità e vediamo che cosa succede. Non c'è nulla a scoprire. Non c'è nulla a scoprire. Non c'è nulla a scoprire. È vero, sai? C'è quella ragazza che tui ancora. C'è una ragazza che tui ancora. C'è una ragazza che non mi credo cosa succede a qui. Tu hai solo qui tre mesi e tu sei già causato conflitto. Non c'è una ragazza che i miei amici. No, non voglio cambiare. Non voglio cambiare perché comunque... Non crederebbe mai. Non vado a scoprire qui. Andiamocelo. Tanto la bacheca l'abbiamo vista tutta l'altra volta. Rachel Amber She looks so hopeful and pretty. I wonder what happened to her. Scomparsa, vista l'ultima volta a Arcadia Bay. Data della scomparsa era nel 22 aprile 2013. Altro. Età 19. Altezza 1,65. Peso 50 kg. Capelli biondi. Occhi marroni. Tatuaggio di un drago su un polpaccio. E una stella all'interno del polso sinistro. Rachel Amber, 19 anni. Chiamate se avete qualsiasi informazione. Sceriffo di Arcadia Bay. 555-388-60-20-20. Ok, è scomparsa Rachel Amber. Ma ora dovete mandare. Fontana. Siediti. This day has been so insane. Everything is happening too fast. And none of it makes any sense. These visions, this power. I keep expecting to wake up one more time. But if this is a dream, then I'm not asleep. Which means somehow, I did rewind time. So there has to be a reason. And I have to find out why. Vorrei vedere se, stando qui, arriva Chloe. Anche se non mi sembra. Allora, alziamoci. Di là ci sono i dormitori. Il campo di atletica. E? Ah, vabbè, la scuola. Vabbè, andiamo verso i dormitori. I need to go to my room and return Warren's flash drive. Come stai? Cosa stai leggendo? Come stai? Vabbè, 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 vabbè. Vabbè, 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 vabbè. E proprio stronti Vintage filter on it right before I post it all over social medias. Now, why don't you go fuck your selfie? Oh, yes, Victoria. I'll get your bony ass out of my way. I don't want to mess with that ladder and hurt poor Samuel. I just want to get Victoria the hell out of the way. There goes Samuel da Vinci to paint the window. Cosa abbiamo fa? Ah, è tipo uno scapuzzino. Nice, bro. This main sprinkler valve looks easy enough to use. What the hell? Are you kidding? Look at this! Chill, Victoria. It's just water. Yeah, water on my cashmere. Do you know how much this fucking outfit cost? You look great. I can't even chill on the steps. Quindi ora che si sono spostate posso passare. La mia bruida。 That's sweet, including Peter Da Vinci. I'm gonna go get pricey. Rugger, Piggy, Ritar. Abbpotts,